Al De Marzi torna una delle classiche del calcio abruzzese, Travezzano e Giulianova. Si sfidano i due migliori attacchi del torneo, con entrambe le formazioni appaiate al secondo posto in classifica, a quota 10 punti. Torti rispolvera dal primo minuto albanese Puglielli-Crasse-Selle, conferma per il tandem offensivo Dos Santos-Pendenza, 10 gol in due nelle prime quattro giornate. Nel Giulianova, Tridente, Persiani, Buonavoglia e Sisse, 5 gol e vice Dos Santos nella classifica marcatori. La cronaca si apre dopo 120 secondi di gioco, con la prima offensiva Giuliese, che porta Cerasi a sfondare sulla fascia, attraversone per la testa di Sisse, che gonfia la rete e porta avanti i suoi. Colpito a freddo l'Avezzano, che reagisce un minuto più tardi, con il tiro a giro di Catalli, che accarezza il palo alla sinistra di Boccanera. Al settimo arriva però il pareggio, azione sull'asse Dos Santos-Pendenza, girata da attaccante vero dell'ex Coupello e palla all'angolino per l'1-1. La partita si fa apertissima e il Giulianova rimette la testa in avanti al dodicesimo. Da corner Marzicano, Krasse perde un pallone sanguinoso e spalanca le porte alla ripartenza Giuliese. Cerasi lancia Buonavoglia, che rientra sul mancino e trafigge per la seconda volta Venditti. Decisiva la deviazione di un difensore biancoverde. L'Avezzano accusa il colpo e il Giulianova potrebbe infierire al diciannovesimo, ancora sulla sinistra, con la barba che premia il blitz di Perziani e il palo a salvare Venditti e L'Avezzano. La replica marzicana arriva al ventiduesimo, quando il signor Pizzi di Bergamo concede il calcio di rigore per l'atterramento di Catalli. Dagli 11 metri va Dos Santos, che si lascia ipnotizzare da bocca nera, ma è lesto a raccogliere il tap-in per il 2-2. Da quel punto l'Avezzano prende in mano le redini del match e Torti corregge la formazione iniziale, richiamando Puglielli e Albanese in panchina per Di Gianfelice e Besana. All'intervallo, mister Cerasi replica con Traini per Giglio. Gli ospiti partono forti e al quarto d'ora rischiano di ritrovarsi ancora in vantaggio con l'autopalo centrato da Besana. Al ventesimo, Brividi da Sissé, che scarica in porta ma trova i pugni di Venditti a cristallizzare il punteggio. Al ventottesimo passa L'Avezzano. L'azione nasce da Lombardo, che sfonda sulla fascia, mette in mezzo per il neontrato Barghini, che serve pendenza per il più facile dei gol. Con il vantaggio ritrovato, L'Avezzano gioca con il vento in poppa e al trentaseiesimo va vicino al poker, con la sberra di Dos Santos, che sfiora la traversa. Tracce di Giulianova al quarantatresimo, con l'azione confezionata dai due neontrati africani e di Giuseppe, ma il tentativo di quest'ultimo si spegne sull'esterno della rete. Nel primo dei quattro minuti di recupero, cara il sipario sul match. Braghini ricama per Dos Santos in campo aperto, galoppata del brasiliano, che serve il subentrato blanco che cala il poker e consegna i tre punti all'Avezzano. I biancoverdi restano in scia del cupello. Prima sconfitta stagionale per il Giulianova. Mister, una partita complicata, soprattutto per come si era messa nel primo tempo. Alla fine l'Avezzano ha portato a casa questi tre punti nella ripresa, con la qualità e soprattutto con la forza del reparto offensivo. Sì, voglio fare i complimenti al Giulianova perché hanno fatto una partita importante, una squadra giovane però organizzata, giocano bene ed è giusto fare i complimenti quando tu incontri poi una squadra che c'è un'organizzazione e c'è un'idea di gioco. Ci hanno messo, in particolar modo alla prima mezz'ora, ci hanno messo in difficoltà perché ripeto, erano organizzati, giocano bene. Però poi noi ci siamo messi a posto, abbiamo fatto qualche correzione. Alla fine penso che il risultato sia meritato. Ecco, ha parlato di correzioni, un doppio cambio era arrivato alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo forse l'innesto di Braghini vi ha dato qualcosa in più, quella forse imprevedibilità di cui avevate bisogno. Sì, effettivamente Valtteri è un ragazzo 2003 che secondo me ha grandissime prospettive. Deve capire che bisogna fare tutte e due le fasi di gioco, in questo momento è un ragazzo che magari è più orientato a offendere, però se riesce a capire che, ripeto, ci sono due fasi di gioco, fasi di possesso e non possesso, secondo me è un ragazzo che può far bene. È ovvio che sicuramente ci ha dato imprevedibilità, ci ha dato corsa, ci ha dato... e quindi non ne abbiamo trovato grande giocamento. Però devo dire che chi è entrato dalla panchina oggi, come tutte le altre volte, si sono dimostrati all'altezza della situazione. Questo è sinonimo un po' della forza di tutta la rosa che lei ha a disposizione. Qualche partita fa le avevo fatto la domanda cosa mancava a questa squadra ancora per fare il salto di qualità, mi ha risposto la condizione fisica, l'intensità. A che punto siamo in questo percorso? Beh, sicuramente manca ancora qualcosa, perché ovviamente poi dobbiamo pensare che qualche ragazzo, qualche giocatore infortunato, tipo Sassarini-Bisegni, è ovvio che quando poi ci stanno queste interruzioni, per forza di cose, come si dice, stanno un po' indietro. Però noi dobbiamo continuare a lavorare forte, perché, ripeto, l'intensità della partita alla fine con la nostra qualità, se noi ci mettiamo sulla stessa intensità degli altri, io credo che la nostra squadra qualitativamente è una squadra importante. Mister, innanzitutto le riporto i complimenti di Mister Torti rivolti alla sua squadra. Un primo tempo giocato molto bene dal Gironova, ha messo in grande difficoltà l'Avezzano. Nel secondo tempo eravate partiti bene, poi cosa è successo? Forse un piccolo calo fisico? Sì, allora, effettivamente un calo fisico l'abbiamo avuto, cioè nel senso che non abbiamo tanti ricambi in una zona importante del campo, come Centrocambisti, abbiamo avuto difficoltà nell'ultimo passaggio, quello importante, per ripartire, per continuare a ripartire come il primo tempo. Però io penso che fino ai minuti di recupero, cioè siamo stati in partita pure durante il 3-2, insomma, sono stati due pali, uno clamoroso, quello del primo tempo. Però diciamo che stiamo parlando contro una squadra che ha forza fisica, qualità, allenata bene, soprattutto messa per bene in campo, sapendo quello che devono fare. C'è una bellissima squadra, l'Avezzano, quindi venirci qua a farci la partita e a provarci, perché secondo me ci abbiamo provato fino a che potevamo. Io penso che dobbiamo essere contenti di questi ragazzi, di questa squadra, del comportamento che hanno avuto. Ecco, mister, abbiamo visto tanti giovani interessanti in campo, sia dal primo minuto che poi subentrati nella ripresa. Questa squadra, dove può arrivare? Qual è il vostro obiettivo per questo campionato? Non è una cosa scondata, io faccio spesso le battute che mancano a 30 punti alla salvezza. Però c'è il fatto che loro sono giovani e quindi i margini di crescere ci possono stare e quindi è normale che noi non ci accontentiamo mai, nel senso che se faremo questi 40 punti prima possibile, ci siamo là a dare fastidio un po' a tutti, anche perché loro, come ragazzi, io adesso esco dallo spogliatoio, hanno una fame negli occhi importante per fare calcio. Grazie.